e benvenuti benvenuti alla diretta di oggi di stampa e vangelo è lunedì 25 di settembre del 2017 ed eccoci qua eccoci riemergere siamo riemersi sembra un po dal polo saluto mary rossi la prima che è arrivata alla diretta ciao mary alberto cerutti tutti i volti che si sono incrociati incontrati alcuni moltissimi per la prima volta a riolo terme alla festa nazionale che ieri si è appena conclusa il popolo della famiglia c'è anche luise adinolfi che sapeva mia madre in giulia viganò lorenzo casi giovanni pennella arrivato massimiliano amato lo abbracciamo molto forte continuando con le preghiere per il papà di gianfranco e massimiliano che è avuto un ictus purtroppo speriamo che si stia rimettendo già in queste ore per gianfranco che è in cile saluto e manuele robu e roberto bruno maria verita boddi che subito alle 8 del mattino pretendeva la diretta di stampa e vangelo eccoci qua non mogliamo mai anche se siamo rientrati a roma in notta da tardi stefano sigali marco graziola milena brindisi trabona roberto barbieri federico pieroni che dice il nostro emine ma visto che esordio che ho dovuto fare la puntata di oggi adesso ve lo spiego ho dovuto fare l'esordio spettacolare perché devo cercare di competere con il primo minuto di trasmissione dell'ultima puntata di stampa e vangelo che è la puntata che nell'intera stagione di quest'anno ha fatto più numeri l'unica che è andata in cinque cifre e sapete perché perché il primo minuto di trasmissione l'ha fatto silvia bardolesi l'ha fatto silvia e allora poiché silvia col minuto iniziale ha portato e trascinato la trasmissione appunto a un ascolto di cinque cifre allora adesso mi sono dovuto inventare un travestimento insomma finiti i colori delle magliette ci siamo inventati il travestimento se non lo facciamo anche spettacolo a popolo della famiglia tv saluto ninna rello e non ero bui dice fantastici due giorni a riolo davvero fantastici se potete manuela miraglia guido mastro buono giulio suardi fate un mi piace un condividi a questa diretta una diretta importante in cui daremo un'interpretazione un po' diversa da quella che leggete sul mainstream dei telegiornali e dei giornaloni sulle elezioni in germania e poi insomma parleremo anche un pochino della nostra festa nazionale c'è già chi chiede la sostituzione come federico pieroni ci facciamo fare il sample vangelo a silvia saluto mauro turdini lo ringraziamo sempre è stato l'artefice faticosissimo della due giorni dal punto di vista organizzativo così come ringraziamo luciana frangioni giovanni fiori che invece da oggi si carica l'impegno organizzativo per le elezioni di ostia oggi alle 16 e 30 siamo presenti alla ostia per raccogliere le firme per presentare giovanni candidato presidente alle elezioni e dunque ci troviamo al lido arcobaleno guardate arcobaleno sul lungomare di ostia saluto o antonella iuna anna russo giovanni mazzotta silvio a suardi alex zino ecco alex zino uno dei protagonisti quelli che pensavano fosse un fake hanno incontrato alex zino alla festa di riolo straordinario momento anche di iconografia fatto delle fotografie bellissime che sonia faenza c'è enzo fortunato che è il protagonista della prossima tappa del tour o com o capiamo moriamo a bari a modugno per la precisione provincia di bari faremo sabato 30 settembre la prossima grande tappa in un auditorium con 500 posti del o com tour del tour o capiamo o moriamo sono già pronte date in tutte le città importanti appunto da bari a napoli a roma a milano e anche altre realtà a partire da padova torino arezzo forte dei marmi stiamo lavorando per avere una capacità di penetrazione a terni in tutta italia lungotevere paolo toscanelli 183 per gli amici residenti nella circoscrizione decima di roma ostia casal palocco acilia malafede infernetto ci troviamo a lungotevere toscanelli 183 per raccogliere le firme per il popolo famiglia e presentarlo alle elezioni del 5 novembre candidato presidente giovanni fiori monica consigliere mi chiede a genova quando quando mi invitate potete invitare organizzare un'iniziativa per la presentazione di o capiamo o moriamo scrivendo ad adinolfi ghioccio a gmail.com saluto cristina zaccanti straordinaria protagonista della festa della croce in due dibattiti dove ha dato davvero il meglio di sé una volta con lucianella presta una volta con la nostra sarà brandini davvero grazie a cristina zaccanti c'è alessandra mondelli anche lei presente alla festa della croce guido mastro buono mi ha appena invitato alla mia diretta che non è male insomma ormai siamo al pirandellismo c'è franco brindisi anche lui era presente a a rioloterme c'è giulio di santo che cita il suo ringraziamento c'è bobac falamachi altra persona che abbiamo conosciuto di persona veramente si chiama bobac falamachi non è un fake è una persona con nome e cognome il nome cognome è bobac falamachi così come alex zino è veramente alex zino ci siamo incrociati in tanti filippo martini mi dice sei ancora a riolo con il cuore si davvero grazie davvero grazie al popolo la famiglia di riolo ha fatto cose straordinarie ci ha fatto stare bene come dice bobac in questo momento che grande festa davvero è stata una grande festa fatemi ringraziare la grandissima costanza miriano che ha dato il vla alla festa c'è una foto che ho pubblicato oggi molto bella credo della nostra costanza che gli ha avuto la grazia davvero la gentilezza di presentare con me per la prima volta l'ho toccato per la prima volta sul palco era tutto incelofanato non so se avete notato la copia di o capiamo moriamo io l'ho veramente toccata per la prima volta sul palco con voi quindi un lavoro di 206 pagine in cui credo di aver racchiuso davvero tutte le ragioni per cui stiamo proponendo qualcosa una proposta per l'italia si chiama il capitolo 14 del libro con tutte le ragioni che nei 13 capitoli precedenti spiegano perché è necessario il lavoro del popolo la famiglia spero che questo compendio lo chiamo un manuale un manualetto da combattimento da mettere in borsa con tutti i dati che spiegano i fenomeni di questo periodo credo che spero spero credo e spero che possano essere utili a tutti i militanti del popolo la famiglia ovviamente non solo è arrivata al coordinamento e anche lei come me ha fatto notte viaggiando ovviamente dopo la chiusura che è venuta alle 6 del pomeriggio tutti quanti abbiamo fatto molto tardi il record è di marco fasulo sabino sabini che hanno fatto 800 km andare 800 a tornare è un bel un bel andare insomma in un giorno e mezzo federico pieroni dice una bella copertina verde che dà speranza federico non ti fermare la copertina devi leggerlo magari scrivere anche una recensione per la croce quotidiana qualcuno deve recensirlo sto libro anche per noi quindi insomma il primo che arriva con una recensione diciamo ben argomentata dimostrando dunque di aver letto il libro differentemente dai giornalisti che di solito fanno le recensioni senza leggere i libri ma solo leggendo l'indice insomma il primo che la manda articolata lo pubblichiamo sul quotidiano la croce monica consigliere dice lo compra oggi attenzione amazon ha esaurito le copie questa è la bellissima notizia infatti ci ha trasformato da vendita normale in vendita prime cioè adesso arriverà in un solo giorno si riforniranno di uno stock non so se arriverà oggi lo stock di copie ma noi abbiamo scalato la classifica siamo arrivati al sesto posto addirittura e loro non se l'aspettavano ci avevano messo in cantina come selezione tutti gli altri libri più importanti da aldo cazzullo a giuseppe cruciani dei giornalisti diciamo che fanno per la maggiore hanno tutto il servizio amazon prime noi non l'avevamo da ieri da quando siamo andati tutto esaurito siamo diventati amazon prime quindi si si doteranno delle copie e avranno quindi poi la cura di farle arrivare entro 24 ore alla destinazione proprio al vostro domicilio se invece lo volete subito potete andare sullo store della croce dove ci si abbona la croce www.lacrocequodidiano.it slash abbonarsi trattino ora che è diventato un vero e proprio marketplace potete comprare e far arrivare a casa vostra anche qui in 24 ore o capiamo moriamo nelle copie di cui avete bisogno e anche tesserarvi al popolo della famiglia dal marketplace dove ci si abbona la croce si può fare tutto abbonarsi alla croce prendere voglio la mamma prendere o capiamo moriamo e anche se volete tesserarvi con il popolo della famiglia per avere dunque un unico luogo online dove quelli che hanno e si fidano di fare acquisti online possono operare è arrivata anche francesca centofanti che stava un po' malandata a nella nella nottata di ieri mentre preparavamo appunto anche francesca del municipio roma 10 tutto il lavoro che c'è da fare per raccogliere 400 firme in otto giorni diciamo così che sarà un lavoro davvero tosto e lei stava pure un po' malandata ma ci stiamo rimettendo c'è chi dice mi hanno tagliato il riscaldamento no sono all'aria aperta questo è il motivo della della misa alla eminem sono all'aria aperta come forse vedete sempre protetto da maria vergine che accoglie il corpo crocifisso di gesù ma questo è un terrazzo quindi fa un po' freddino e oggi ho scelto il look al prima era da frate così è da frate no ecco qua e poi aprendo diventa da eminem come ha detto mi pare federico pieroni ci saluta monica consigliere saluto luca cipriani saluto giovanni albicini angelo de santis anche lui protagonista a a riolo l'ho sentito discutere delle questioni di di famiglie numerose perché angelo ha trovato una famiglia più numerosa della sua c'era parlava con un papà di nove figli mentre lo incrociavo insomma saluto ad angelo e a tutte le famiglie numerose che sono sempre al centro della nostra azione della nostra preghiera e del nostro cuore vincenzo lelli dice in versiglia c'è il sole non è freddo benissimo tra l'altro vengo in versiglia c'è una tappa già fissata della dell'ocom tour del lo capiamo moriamo tour 7 ottobre a forte dei marmi speriamoci sia ancora il tempo bello che c'è oggi che tu ci testimoni saluto antonio grauso mauro olivieri vi chiedo allora un mi piace un condividi andiamo a leggere il vangelo di oggi se non riuscite a fare il condividi perché manca il testo con il tasto condividi sono ridiventato monaco potete invitare direttamente i vostri amici a seguire la puntata con invita amici mari de cristofaro chiede quando ci sono le tappe in umbria la prima tappa in umbria è prevista il 20 di ottobre alle 20 e 45 a terni l'albergo non me ricordo non me lo ricordo forse hotel etrusco non lo so vado a indovinare comunque il 20 ottobre a terni per gli amici dell'umbria ed è la prima tappa che faremo in umbria poi ce ne saranno anche altre c'è leonardo de stefano c'è claudio parisini c'è giuseppe martini andiamo a leggere questa meravigliosa pagina di vangelo arrivata anche michela d'adamo lucia rispoli a salerno stiamo organizzando qualcosa per i primi di novembre il 4 novembre però sono sicuramente a napoli quindi insomma cerco davvero di essere in tutte le regioni d'italia più volte passeremo quindi l'idea è quella di toccare le 100 province in maniera che possiamo essere quindi presenti anche per i 100 collegi in cui è diviso il territorio nazionale in vista le elezioni politiche saluto alberto leo che è il capolista della lista del popolo della famiglia sul comune su Roma 10 sul municipio Roma 10 quindi anche Alberto oggi è coinvolto nel primo giorno ne lavoriamo subito finita la festa domenica lunedì dalle 16 e 30 alle 21 e 30 siamo a raccogliere firme a Ostia per il nostro candidato presidente per la lista del popolo della famiglia di Ostia è arrivato anche Romana Cordova, Alessandro Margiotta, Paola Perissinotto, Emanuela Sanna e allora leggiamo il Vangelo di oggi molto bello di una poesia davvero straordinaria mentre saluto anche Massimo Cucciolotti ed è arrivato anche Sabino Sabini così riesco ad abbracciare anche lui e leggete con me, ascoltate, vivete, conservate nel cuore queste parole del Vangelo di Luca capitolo 8, sono tre versetti dal 16 al 18 in quel tempo Gesù disse alla folla nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la pone sotto un letto la pone invece su un lampadario perché chi entra veda la luce non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato nulla di segreto che non debba essere conosciuto e venire in piena luce fate attenzione dunque a come ascoltate perché a chi ha sarà dato ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere questa è la parola del Signore di oggi io la trovo di una forza e di una bellezza lancinanti per certi versi è un monito, ascoltate il monito fate attenzione dunque a come ascoltate a come ci apprestiamo a ricevere la parola del Signore e siamo pronti a testimoniarla esplicitamente, coraggiosamente come una luce messa su un lampadario non nascosta, non fatto di cristianesimo schifo che non deve farsi vedere, che non deve testimoniare, che non deve dare fastidio siamo pronti invece a proclamare, testimoniare la verità a esserlo davvero lampadario perché non siamo luce, non siamo luce, ricordiamolo sempre possiamo essere lampadario o come ho detto ieri, riprendendo una parola che avevo utilizzato anche all'Assemblea Costituente del Popolo della Famiglia dell'11 marzo 2016 al Palazzetto delle Carte Geografiche noi siamo solo lampadine fulminate io sicuramente poi molti di voi sono migliori di me ma io sicuramente sono una lampadina fulminata se luce arriva, la luce non è cosa mia posso fare il lampadario quello grosso, insomma, no ma la luce arriva da altro e da sopra da questo, lo vedete? immagino oggi che è un pochino offuscata dal riflesso ma quella è la deposizione dalla croce di nostro Signore con Maria che accoglie il corpo crocifisso di Cristo e che è alle nostre spalle a proteggerci allora andiamo alla notizia del giorno la notizia del giorno è la vittoria di AFD Alternative for Deutschland in Germania parliamo di questa vittoria è importante lo dico subito AFD non è il popolo della famiglia così evitiamo di fare commissioni ma AFD è guidata da un'omosessuale non lo sono però è un movimento contro il matrimonio omosessuale attenzione, è interessante questa cosa guidata da un'omosessuale, una lesbica ma contraria al matrimonio omosessuale non è parallela a noi perché sono piuttosto libera sulla questione della fecondazione assistita alcune cose evidentemente ci distinguono però la vulgata con cui oggi vengono rappresentati sui giornali italiani dicendo che Alternative for Deutschland è un partito sostanzialmente neonazista è un problema serio perché non è vero che è così è un problema di informazione Alternative for Deutschland è semplicemente un movimento che mette al centro alcune questioni distante e distinti anche dal centrodestra tradizionale che ricordo con 80 parlamentari di Angela Merkel ha votato a favore del matrimonio omosessuale giusto qualche settimana fa e credo che il fatto che Alternative for Deutschland sia per la famiglia naturale contro il matrimonio omosessuale contro l'aborto contro l'eutanasia e per la regolazione seria e stringente dei flussi migratori in particolare degli islamici e io credo che questo rappresenti meglio il racconto di tutto questo rappresenti meglio la natura di Alternative for Deutschland che non è un partito neonazi anzi dimostrandosi contro l'aborto contro l'eutanasia a favore della famiglia naturale dimostra di essere davvero un movimento con la testa sulle spalle anche questo elemento di essere guidata guidato a Alternative for Deutschland da una donna lesbica ma di essere allo stesso tempo contrario al matrimonio omosessuale da una sfumatura diversa da Angela Merkel che è dentro un matrimonio diciamo così tra uomo e donna che invece lascia libertà di coscienza come ormai la moda del centro-destra anche in Italia lo fa anche Forza Italia sui temi etici libertà di coscienza invece di avere un'etica si specialisce buttare alle ortiche una dimensione etica e favorire una dimensione libertaria che non ci appartiene per essere chiari non è un partito neonazista non è un partito neonazista intanto saluto anche Laura Terrana che con Nicola Di Matteo il nostro coordinatore nazionale è presente in diretta c'è Livia Livia Cianni la moglie di Guido Pianeselli altro fondamentale personaggio presente a Riolo e sarà presente anche oggi per la raccolta firme a Ostia per il popolo e la famiglia un abbraccio a Gabriella Maiglia che dice non sanno accettare un pensiero diverso da loro chi è nazista? ottimo punto di domanda posto da Gabriella tappa di Arezzo organizzata da Gabriella per O Capiamo o Moriamo Tour 6 di ottobre anche qui alle 20.45 è arrivato anche Massimiliano Fiorin protagonista dal palco di un momento molto importante attorno al suo libro riguardante la questione dei matrimoni e dei divorzi saluto Valerio Guatteo saluto ecco è arrivato Nicola Di Matteo forza amici del popolo e della famiglia saluto Leonardo De Stefano libertà di coscienza e come dire fate come vi pare io me ne lavo le mani esattamente c'è Daniela Pimpini Stefano Gardini buongiorno Mario ben rientrato da Riolo buongiorno anche a tutti i presenti alla diretta c'è Roberto Mura che ci è mancato a Riolo ci sei molto mancato saluto Carlo Bartolini e ripeto attenzione alla vulgata giornalistica che prova sempre a dipingere il pensiero diverso dal pensiero politically correct spingendolo su un versante estremo appunto in questo caso gli ultraconservatori neonazisti di Alternative for Deutschland così come noi dicono ultracattolici quando usano quell'espressione ultra vuol dire sempre cercano di spingerti verso una dimensione di estremismo che per esempio a noi non ci riguarda basta venire alla festa di Riolo ieri e vedere quello che noi siamo siamo famiglie famiglie mamme, papà, bambini tantissimi bambini presenti a Riolo a dimostrare ciò che noi siamo cioè noi siamo popolo appunto ci chiamiamo così popolo della famiglia siamo neanche conservatori dice un polo conservatore e cattolico dice Paolo Maioli noi non siamo neanche conservatori siamo cattolici ma il partito è confessionale c'è l'ispirazione ma poi sono vicini a noi tanti agnostici addirittura atei gli evangelici abbiamo candidato anche musulmani però partendo da un'identità chiara che noi decliniamo non capiamo moriamo ho voluto metterlo molto ben preciso questo che si dialoga si confronta ci si accoglie gli uni con gli altri se lo stessi parte da un'identità chiara Angelo De Santis intanto entra in ufficio ci vediamo stasera al municipio 10 per raccogliere le firme per Giovanni Fiori bene c'è Angelo c'è Angela Umbriano che non è arrivata a Riolo e la abbracciamo saluto Roberto Mura che cita Costanza Miliano dobbiamo essere grati per quello che fai io sono grato a voi sono grato a voi ci vediamo a Forte Forte dei Marmi capisco bene e allora ci vediamo lì Roberto Francesca Impaccio Nicola Di Matteo usa questa espressione sempre bellissima siamo un popolo in cammino ed è vero esattamente questo c'è Federico Pieroni un bel popolo caloroso e gioioso e Sivone Abartoli scrive un passaggio molto importante grazie al PDF TV perché ho potuto seguire tutta la festa di Riolo ci vediamo ad Arezzo ecco Popola Famiglia TV ha svolto un ruolo fondamentale posso dire da televisione vera da televisione vera saluto Dimitri Turrini il grande Massimo Pistoia che ho potuto abbracciare per la prima volta dal vivo Nicolò Marino Giovanni Fiori ricorda l'appuntamento per firmare Lungotevere Paolo Toscanelli 183 dalle 16.30 oggi in quel di Ostia c'è Mauro Galastri che saluto e allora Adriana Di Donato allora è fondamentale il lavoro svolto dalla PDF di Fuga è stata una televisione vera possiamo dirlo numeri importantissimi 40.000 persone 40.000 persone che hanno seguito la due giorni di Riolo ovviamente Massimo c'è una preghiera per Gianfranco l'ho fatta in apertura di trasmissione a Forte dei Marmi è il 7 di ottobre risponde a Vincenzo Lelli Danilo Leonardi che di TV se ne intende perché è un dirigente RAI dice numeri eccezionali per la diretta Dariolo del PDF dunque andate sulla pagina di PDF di TV fate mi piace alla pagina diventate un pezzo della nostra comunità perché davvero lì abbiamo dimostrato 40.000 persone che hanno seguito le dirette dei dibattiti del PDF e quello strumento sta diventando uno strumento sempre più importante Daniela Tascini dice ragazzi ieri mi sono sentita davvero in famiglia grazie davvero grazie a te c'è anche Mauro Chielassi che ho già citato Lucia Russo Lucia Russo noi siamo coloro che ascoltano il Vangelo di Cristo e non il suo contrario Rose non orari esposti siamo semplicemente cattolici che vogliono seguire il Vangelo e la tradizione della Chiesa esattamente Meri Tossi dice Riolo indimenticabile il PDF è una forza Simon Pietro Carta credo sia lungomare Paolo Toscanelli non lunga tevere ovviamente ovviamente scusate siamo a Ostia lungomare Paolo Toscanelli 183 Lido Arcobaleno Popar Cubaleno ce lo siamo scelto ma così ce lo ricordiamo meglio dalle 16.30 alle 21.30 raccogliere firme per il nostro Giovanni Fiori Antonella Bagno anche lei protagonista PDF Piemonte presente Ariolo Raffaele Miele Michela Canciani Fiorella Salmi Francesco Cappi buongiorno a tutti difendere i propri valori da una discutibile deriva non è essere conservatori ma mantenere una etica della verità bravissimo Francesco Cappi altro fondamentale dirigente del Popola Famiglia di Roma impegnato sul territorio di Roma Municipio 10 per la raccolta delle firme ricordo Roma 10 250.000 abitanti è la tredicesima città d'Italia per popolazione fondamentale per noi questo test elettorale Benedetto Andretta dice che il ministro degli esteri della Nord Corea ha detto di fronte all'ONU che il lancio di un missile verso l'America è inevitabile come va a finire questa questione signori non abbiamo una palla di vetro però secondo me non va a finire malissimo bisogna gestire come tutte le crisi vanno gestite politicamente Silvia Lodà dice che ci andiamo a riappropriare dell'arcobaleno bellissima frase brava Silvia saluto Livia Guido saluto Salvatore Asero buongiorno da Catania non disperdiamo il consenso perché siamo impegnati subito dopo il 5 novembre a venire in Sicilia Nicola Di Matteo presiderà proprio personalmente la Sicilia per sviluppare un discorso già avviato in Sicilia col grande risultato di Avola l'11,1% e andare a radicare per le elezioni politiche dello sbarramento del 3 non al 5 uguale regionali la nostra partita per ottenere l'obiettivo che abbiamo in mente saluto Gian Piero Bonfanti dispiaciuto per non poter essere venuto a Riolo ma insomma spero che avrei potuto seguire tramite la BDF TV tra l'altro riprese meravigliose grazie a tutti gli amici che hanno collaborato e ovviamente al coordinamento editoriale della nostra immancabile e imprescindibile prima della Bungiruppi Leuteri saluto Paolo Ruotolo la fede da occhi capaci di leggere i segni dei tempi questo sta facendo il popolo della famiglia esattamente saluto Giuseppe Ficca saluto Anna Cavallo è arrivato anche Faustino Gogliandro intanto Paterilio sta per cominciare la sua rassegna stampa a Radio Maria mi hanno detto che ieri un tal innocente nella sua trasmissione a Radio Maria abbia usato parole irriguardose nei confronti del popolo della famiglia e dei suoi dirigenti non lo so ancora andrò a verificare ascolterò l'audio di questa trasmissione che non dovrebbe parlare di politica e meno che mai insolentire il popolo della famiglia ovviamente se questa notizia fosse confermata poiché Invernizzi scusate si chiamano così Marco Invernizzi che è anche Presidente di Alleanza Cattolica e che io conosco bene avendolo diciamo cooptato e avendo votato per il suo ingresso nel Comitato Difendiamo i nostri figli quando erano nel Comitato Difendiamo i nostri figli se si è permesso da sostenitore della Lega qual è e anche per via di rapporti di lavoro diciamo sostenitore della Lega di utilizzare parole non riguardose nei confronti del popolo della famiglia a Radio Maria sappiate che ci sarà una risposta formale della Presidenza del popolo della famiglia che chiederà come abbiamo rispettosamente accettato la decisione di Padre Livio che è una decisione da me condivisa di non fare commissioni tra Radio Maria e l'impegno politico tant'è che la mia trasmissione è il mormorio di un vento leggero che era molto ascoltata a Radio Maria ho preferito sospenderla per evitare di dare fastidio diciamo così a un emittente che è nei nostri cuori e che abbiamo sempre difeso in maniera assoluta bene pretendiamo che quello che è stato giustamente sottolineato da Padre Livio della diciamo distanza di Radio Maria da qualsiasi tipo di militanza politica valga anche a tutela a tutela della dignità del popolo della famiglia se dovesse essere attaccato da un conduttore improvvido e molto diciamo così politicamente orientato di quella emittente quindi non vogliamo però fare i processi prima di aver ascoltato effettivamente quello che è stato detto quindi andrò ad ascoltare e poi avrete notizie su questo argomento saluto Prisca Vegni che abbiamo incontrato che bella ragazza Ariolo Benedetto Andretta dice cosa prevede il vostro programma sull'immigrazione ci ho scritto 206 pagine non capiamo moriamo ti prego Benedetto leggi il libro e avrai con chiarezza la nostra posizione delineata con grande precisione su questo tema Silvia Lodà non era Ariolo non l'ha conosciuta Federico non è riuscito a vedere Silvia Lodà saluto Maria Pia di Girolamo che mi vede imbaccuccato diciamo così anche con un po' giù di voce perché ragazzi purtroppo parlare 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 voi non avete idea ma tecnicamente fare un'ora di monologo poi a Ariolo ho fatto due ore di presentazione nel libro un'ora di finale diciamo così più tutte le conversazioni ovviamente quando parli così tanto poi vai giù di voce inevitabilmente io ho proprio finito il fiato a un certo punto ieri a Ariolo e anche oggi adesso devo un po' recuperare perché è quasi una questione di benzina insomma bisogna avere il serbatoio pieno poi fare monologo in un'ora come sono questi è anche tecnicamente complesso insomma devi fare su una certa tonalità di voce abbastanza sostenuta a far sì perché questo non è microfonata questa diretta insomma quindi capite che va fatta tutta di diaframma ecco proprio tecnicamente saluto Lello Melillo Bartolomeo Fantozzi ho visto affacciarsi anche Silvia Lucchetti Fausto De Simone Giovanni Mazzotta dice ha detto che i cattolici non devono misurarsi ed era indirizzato al pdf la risposta a domanda in tal senso da uno ascoltatore ho sofferto ieri sera Giovanni fammi capire bene ha citato proprio il popolo della famiglia insomma se lo ha citato ne chiederemo conto insomma evidentemente fammi capire se nella frase c'era proprio il riferimento esplicito al popolo della famiglia Roberto Cassano dice ottima scelta a Bari però capiamo moriamo e ci vediamo allora sabato prossimo per la tappa in quel di Bari anzi a Modugno per la precisione saluto rosa in onore agli esposti Maria Pia di Gerolamo Giovanni Mazzotta dice sì ha citato esplicitamente il popolo della famiglia dunque la risposta arriverà come mi era stato già detto e non pensavo che chi dicesse le cose fosse diciamo così qualcuno che aveva sentito le travecole adesso una risposta formale ci sarà chiedo a Emanuela di croppare come si dice tecnicamente cioè di prendere il passaggio della trasmissione in cui Marco Invernizzi dice questa frase e risponderemo dopo averla ascoltata è proprio isolata in maniera che la risposta sia con l'audio collegato prendiamo croppiamo l'audio sulla frase e lo mettiamo in in diretta lo ha detto chiede Silvia Lucchetti Marco Invernizzi che ripeto è un esponente allora secondario di Alleanza Cattolica oggi ne è la guida dopo le disavventure di Massimo Introvigne che io ho votato per includerlo nel comitato difendiamo i nostri figli nella seconda fase di vita del comitato e che per ringraziamento ha pensato bene per via delle sue simpatie leghiste derivanti anche dai rapporti diciamo così professionali di attaccare il popolo e la famiglia ieri da Radio Maria non è stata una mossa provvita diciamo così anzi chiedo a tutti dopo che avrò isolato evidenziato questo passaggio di Invernizzi di scrivere o di telefonare addirittura a Radio Maria per dire che il popolo e la famiglia non va toccato perché l'elemento di critica politica non afferisce al mandato diciamo così che gli ascoltatori e il padre Lio stesso indicano per Radio Maria che non è una radio che fa politica e per questo rispettando queste indicazioni io sospisi dopo aver fondato il popolo e la famiglia la trasmissione o capiamo scusate il momorio di un vento leggero proprio per rispetto della a partiticità giustamente difesa da padre Livio di Radio Maria c'è anche Centofanti che giustamente viene ringraziata senza te che pdf tv sarebbe dice Emanuela su un po' di giluppi ovviamente Francesca Centofanti ci ha reso tutto disponibile anche su youtube anche in differita quindi fatto le notti a fare la youtubizzazione come diciamo noi che è un lavoro complesso dei dibatti di 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 davvero tanto la nostra Francesca per per questo lavoro mi dicono diretta interrotta io la vedo abbastanza fluida la diretta quindi magari spegnete o ricaricate la diretta per vederla meglio Bubac Falamachi invernizzi si sta squalificando da solo non vorrei capire le esperienze che hanno squalificato il povero professor introvigne dando una luce un po' strana sulleanza cattolica poi dovessero arrivare a toccare anche la nuova leadership diciamo così di alleanza cattolica è sempre un gruppo piuttosto marginale anche in termini numerici però insomma non utilizzi la forza di Radio Maria per fare quello che non bisogna fare cioè attaccare il popolo della famiglia giustamente Danilo Radici la Lega e Fratelli Danilo invece vanno bene per i cattolici stiano al loro posto e non strumentalizzino Radio Maria concordo con quello che dice Danilo Leonardi allora la Pongiluppi ci conferma dal coordinamento editoriale che la diretta è fluida proprio per rispettare la diretta di Padre Livio ce ne andiamo ora in buon ordine a toglierci il cappuccio a fare diciamo così anche una bella lavata di capelli che mi sa che ce n'è bisogno eccoli qua andiamo a sistemare tutto ci vediamo invece davanti a a lungomare di ossia al lito arcobaleno e lì ci incontriamo per raccogliere le firme dalle 16.30 alle 21.30 un lungo happening durata 5 ore come piace a noi perché a noi ci piace fare cose lunghe diciamo così come è stata la grande festa di Riolo è veramente grazie 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 è stato bellissimo abbracciarvi conoscervi perché alcuni li ho visti per la prima volta è stato bello conoscersi tantissimi che qui si parlano e sono solo un simbolino un nome un cognome con una foto profilo la foto profilo sia quella del popolo famiglia per tutti noi sarebbe molto bello se facessimo questo ci siamo incontrati siamo diventati amici c'è stato un grande clima di gioia la festa nazionale della croce è arrivato anche fratello Antonio Giannacone Cabraccio Anna Russo Claudia Brignoli Francesca Giorgi Lungotevere Toscanelli 183 è arrivato di nuovo Mauro Turrini grazie, grazie, grazie dice che Riolo sente la nostra mancanza siamo noi che sentiamo la mancanza del calore del popolo famiglia di Riolo grazie a tutti i volontari 80 volontari alle donne che sono state in cucina a chi ha servito ai tavoli a chi ha organizzato a chi ha organizzato i balli romagnoli piuttosto che il concerto rock a tutto il lavoro di accoglienza degli alberghi ragazzi sarà un lavoro organizzativo straordinario grazie a Mirco De Carli abbiamo capito perché Mirco De Carli ha preso il 14,3 per cento per il popolo famiglia a Riolo ci meriteremmo un 14,3 per cento nazionale se fossimo davvero tutti come Riolo diciamo così come il popolo famiglia di Riolo che ha dimostrato di essere un esempio e un modulo diciamo così da replicare da replicare sul territorio per essere convincenti lungomare sì lungomare mannaggia non mi sono sbagliato non è un lungotevere a Ostia c'è lungomare non c'è lungotevere ma noi non ci fermiamo mai 5 ore oggi a lavorare 5 ore a raccogliere firme per il popolo famiglia e vedere una straordinaria nuova puntata di questa vicenda collettiva che è la vicenda del PDF la vicenda ormai di decine di migliaia di persone che in giro per l'Italia stanno dando corpo a una comunità senza uguali e questa comunità la comunità del popolo e della famiglia va rispettata noi chiediamo solo questo non attacchiamo mai nessuno ma se attaccati ci difendiamo con le unghie e con i denti perché siamo persone che sanno combattere e mi sa che oggi l'abbiamo data a vedere no? grazie a tutti con il sorriso e con l'abbraccio che ci è stato regalato dalla due giorni della festa della nazionale della croce a Riolo Terme un appuntamento rilanciato a domani con Stampe Vangelo con l'Ocapiamo Moriamo Tour ripartiamo da Bari sabato prossimo ripeto tutto esaurito di Ocapiamo Moriamo su Amazon che però è diventata Amazon Prime quindi adesso si doteranno di uno stock di libri per farvelo arrivare in un solo giorno a casa ma se volete sul marketplace della croce dove potete abbonarvi alla croce potete anche ordinare farla arrivare dunque subito a casa vostra o Capiamo Moriamo voglio la mamma e addirittura tesserarvi al popolo della famiglia se volete la pagina è www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora è un marketplace trovate tutto per diciamo così essere dentro il mondo del popolo della famiglia Andrew Clemens è arrivato dall'Australia perché il nostro mondo il nostro popolo non ha confini mi ascolterà indifferita come dice è arrivata Manuela Miraglia con il suo saluto Carla Stefanini anche lei con il suo saluto Carlo Giannascoli che dice gentile ad inolfi non vorrei fare il quastafeste ma lì ce vai è lesbica e convive con una compagna tesoro non ha ascoltato la diretta e neanche letto quei cinque righe che faccio di introduzione dove ho scritto che il partito AFD è guidato da una lesbica come al solito siete distratti e arrivate dopo amici miei pensate di fare gli intelligenti e dare la chicca che nessuno sa e ne abbiamo appena parlato per un'ora quindi quando arrivate prima preoccupatevi di sentire e capire quello che stiamo dicendo e poi venite a fare i sapientini diciamo no? perché qualcosa sappiamo anche noi giornalisticamente di solito sappiamo molto ecco diciamo così e un saluto anche ad Antonino Aloi che è arrivato in questo momento a Simona Lupi del PDF abruzzese dico a tutti gli amici che hanno a cuore il simbolo del popolo della famiglia se potete se volete sostituite la vostra faccetta anche io avevo la mia faccetta bellissima come fotoprofilo ma da 20 mesi la mia fotoprofilo è il simbolo del popolo della famiglia facciamolo conoscere il più possibile diventiamo testimoni di questa grande esperienza collettiva di questa straordinaria vicenda di popolo che è la vicenda del popolo della famiglia grazie a tutti noi ci ritroviamo con stampa e vangelo domani alle 8 e qualche minuto è arrivato anche Bruno Donà a salutarci Federico Pieroni star della festa finalmente molti l'hanno conosciuto e abbracciato dal vivo buona giornata amici e bello avere i vostri volti impressi nella mente vi abbraccio ecco Federico Serena Marci anche arrivata adesso da Maninolfi una buona giornata ci troviamo domani alle 8 e 10 per stampa e vangelo alle 16 e 30 invece a lungomare artigiani a Ostia 183 per raccogliere le firme per Giovanni Fiori candidato presidente per la lista del popolo della famiglia al municipio Roma 10 prossima sfida 5 novembre elezioni al municipio Roma 10 saluto Massimo De Carli Alberto Speroni Barbara Figus ecco Simona Lupi Faustino Cogliandro un abbraccio finale a Mirko De Carli per lo straordinario lavoro svolto sul territorio con il popolo della famiglia di Riolo con Mauro Turini e tutti gli amici del popolo della famiglia dell'Emilia Romagna grazie per l'ospitalità l'accoglienza l'affetto per la pasta con il ragù di pancetta per i dolcini per il concerto per la straordinaria giovialità propria della terra romagnola che io amo particolarmente e me la sono pure sposata perché Silvia è romagnola un abbraccio davvero a tutti ci troviamo domani da Manerino Orfi buona giornata